Musica Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni sul territorio. Oggi ci troviamo nel comune di Santa Giustina e incontriamo il sindaco Ivan Minella che saluto e ringrazio per la disponibilità. Grazie sindaco per il tempo che ci dedica, partiamo subito con un tema importante ossia quello dell'emergenza pandemica. Abbiamo visto i dati degli ultimi giorni, danno segnali di luce e di speranza. Qual è la situazione sul suo territorio? Abbiamo affrontato dei momenti difficili nell'ultimo mese con degli contagi che sono andati a livelli molto elevati nell'ultimo periodo. La cosa positiva è che comunque non abbiamo mai avuto livelli di ricoveri o gravità. come nelle altre ondate. Quindi sicuramente è andata molto meglio. La questione è stata più di difficile, gestione per le famiglie, per le persone, perché il numero era molto elevato. In questo periodo vediamo, appunto come ha citato anche lei, un calo netto dei contagi. Anche in ambito scolastico abbiamo avuto periodi in cui parecchie classi sono state chiuse, sono state messe in dad, periodi un po' turbolenti. Ma adesso cominciamo a vedere anche con la bella stagione un po' la fine di quella che è questa ondata. Quindi sicuramente abbiamo un po' scavallato la parte difficile. Quindi siamo ancora riusciti a far fronte a questa ondata anche questa volta. La sua amministrazione comunque ha cercato per quanto possibile ovviamente di essere al fianco di cittadini e di imprese per cercare di far fronte. Pensiamo anche alle conseguenze sul lato economico di questa situazione. Allora abbiamo cercato di dare una mano più che altro alle famiglie, tutta la parte dei buoni covid, dei buoni spesa che abbiamo erogato in tutte le tranche. Anche adesso stiamo continuando a erogare questo tipo di aiuti che sono molto apprezzati, ma vediamo che comunque adesso pian piano questa esigenza sta andando un po' a morire. La cosa interessante è che siamo riusciti a erogare anche buoni affitti, quindi cercare di aiutare anche le persone con i loro affitti in caso di problemi. Per le famiglie abbiamo fatto, come avevo già detto anche l'altra volta, ma adesso abbiamo chiuso l'iter, è già partito e stiamo raccogliendo le varie domande. Gli aiuti per quanto riguarda le famiglie, ovvero la connessione internet e pc o tablet acquistati nel 2021 che le famiglie hanno dovuto affrontare per la didattica a distanza. Dall'altra parte la questione delle imprese, cioè cercare di dare degli aiuti finanziari alle imprese tramite dei prestiti, dove il comune e le banche mettono l'interesse al posto dei privati. Quindi sicuramente è un piccolo aiuto che speriamo possa venire apprezzato dalle nostre imprese. Ecco, senta Sindaco, lei che ha il stretto polso della situazione sul territorio, incontrando comunque i suoi concittadini, che umore si respira adesso fra la comunità? Com'è il sentore? Il sentore è buono, il problema è che ancora la cosa è troppo liquida, le regole continuano a cambiare, la gente è un po' stufa di dover stare lì a guardare zona bianca, zona rossa, zona gialla e il pulmino possiamo mandare, il green pass. Diciamo che la parte più complessa è la difficoltà legata al green pass. Se la difficoltà è legata ai vaccini di base, il numero di vaccinati a Santa Giustina è molto elevato, sopra media, quindi su questo possiamo essere molto soddisfatti, anche dei nostri cittadini. La questione del green pass e delle attività e della socialità ha complicato molto la tenuta sia delle attività fatte dall'associazionismo che da parte del comune. Speriamo che questa cosa possa pian piano essere risolta, perché la situazione è molto ingessata e la popolazione è ancora abbastanza, non dico arrabbiata, ma scossa per questo, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo per recuperare. Questo è il grande tema insomma che insieme a quello delle bollette, che non vi nego a essere abbastanza caldo in questi periodi sia gas che luce, stanno spaventando soprattutto le imprese, le famiglie e anche in minima parte il comune. Ecco, proprio su questo infatti avete pensato anche voi a delle azioni, abbiamo sentito anche la mobilitazione che c'è stata per esempio a livello nazionale con la scelta di alcuni comuni proprio di spegnere le luci o quant'altro per un periodo. Insomma, Santa Giustina su questo? È da anni che siamo molto attenti all'aspetto del risparmio energetico, sia per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, quindi avendo cambiato tutte le illuminazioni a LED e facendo un piano organico di sostituzione degli impianti. Come riscaldamenti anche lì abbiamo dei sistemi di razionalizzazione, quindi non siamo mai andati a spendere troppo. Il problema è che con questi aumenti veramente veloci non riusciamo al momento a contenere la spesa. Avremo delle sorprese sulle prime bollette che arriveranno quest'anno, ancora non sono arrivate, quindi mi vedete con questo sorriso, perché ancora non ho visto le bollette e la cosa sarà poco simpatica, sentendo alcuni colleghi che sono già arrivate. Quindi vedremo di affrontare insieme anche a Lanci e gli altri comuni italiani questo problemone, più che altro per i comuni che non hanno possibilità di avere entrate correnti che vadano ad assorbire questo aumento. Per Sessanta Giustina si tradurrà il nuovo aumento di costi che probabilmente inciderà sul bilancio, come non è mai dovuto succedere negli anni scorsi. Se lo possiamo permettere perché abbiamo un bilancio abbastanza importante, ma cominceremo a non fare più certe cose per questo aumento di costi. Senta Sindaco, andiamo un po' veloci e spaziamo su vari temi perché sono tanti gli argomenti da affrontare. PNRR, questa è una grande sfida per il territorio, è un'opportunità da cogliere? È un'opportunità ma soprattutto una sfida. I bandi hanno delle tempistiche molto veloci, costringono i comuni a delle tempistiche e a delle scelte che magari non avevamo in programma, ma le opportunità sono molto grandi. La parte più difficile è legata al personale, ovvero la mancanza di personale per quanto riguarda il costruire i bandi e costruirli che abbiano anche, come posso dire, una sostenibilità. Perché possiamo avere in mente un progetto adesso che però non riusciamo a, in questo poco tempo che danno le amministrazioni, a rivederne la sostenibilità nel futuro. Quindi noi cercheremo di aderire a tutti i progetti, stiamo aderendo a dei progetti sullo sport, aderire a progetti sul sociale, aderire a dei progetti sui borghi, sulle opere pubbliche, per esempio, la messa in sicurezza del territorio, delle scuole. Quindi stiamo aderendo a tutti i bandi possibili. E quello che non vi nego ci spaventa è la loro gestione con il personale che comunque non è aumentato, ma anzi. E quello è sempre grande tema, vero, della carenza d'organico che comunque si sente anche all'interno delle amministrazioni, insomma, del personale a disposizione. Tema lavori pubblici, anche qui, insomma, c'è molto materiale, ci sono importanti novità. Abbiamo delle importanti novità. Abbiamo iniziato i lavori della Rotonda di Meano, seguiti da Veneto Strade, sul finanziamento della provincia di Belluno. La Rotonda di Meano è che andrà a risolvere un grave problema di sicurezza stradale su quell'incrocio che, ricordiamo tutti, ha avuto anche molti incidenti e feriti. Quindi i lavori dureranno ancora un paio di mesi, ma sicuramente la serietà dell'impresa e di Veneto Strade porterà a un risultato molto migliorativo della zona. Abbiamo anche iniziato i lavori dell'ecocentro comunale, in una località a Volpere. Anche qui dipenderà dal tempo, ovviamente, che ci sarà a disposizione, se farà bello. I tempi non saranno lunghissimi per l'apertura del nuovo ecocentro, ma sicuramente siamo fiduciosi che anche qui l'impresa è molto seria e di portarli a casa entro l'anno. Altri lavori, abbiamo fatto tantissimi lavori sull'idrogeologico, soprattutto questo inverno e l'autunno. Abbiamo messo a posto alcune situazioni abbastanza problematiche del territorio, di idrogeologica. Continueremo a investire sullo studio dei punti neri dell'idrogeologico del nostro territorio per negli anni, soprattutto, investire in progettazioni in modo che nei prossimi anni possiamo affrontarli al meglio. Ecco, lei parlava, Sindaco, proprio del nuovo ecocentro dal punto di vista della raccolta dei rifiuti e anche della raccolta differenziata, soprattutto Santa Giustina come si pone? Santa Giustina è sempre ai vertici della classifica della differenziata bellunese e anche veneta. Ovviamente il merito dei cittadini perché sono sempre molto sensibili a questo. Siamo entrati da quest'anno nella società Bellunum, di conseguenza è diventata una partecipata, qui siamo soci. Abbiamo affidato da subito tutti i servizi legati alla raccolta rifiuti, tranne l'aspetto ecocentro che verrà affidato una volta che sarà terminato il nuovo ecocentro. La risposta dei cittadini in questi primi mesi è ottima, nel senso non abbiamo toccato la modalità di raccolta, abbiamo solo fatto un traghettamento nella stessa modalità di una volta. Con il 2023 andremo a portare il totale porta a porta, cioè portando la carta e il vetro anche a casa. Di conseguenza toglieremo le isole ecologiche, ma dal 2020 a 2023. Senta, per quanto riguarda adesso l'ambito dello sport, anche su questo fronte ci sono comunque degli interventi, delle novità? Stiamo costruendo una manifestazione di interesse per una tensostruttura coperta in zona degli impianti sportivi, dove cercheremo di capire se ci sono dei privati che vogliono investire parte in questo progetto, dove noi metteremo la metà dei soldi. È stato fatto in comunico attorno, il bacino d'utenza è molto molto interessato su questo, quindi immaginiamo che ci sia interesse anche da parte i privati di investire su questo settore. Di conseguenza credo che nei prossimi tempi verrà fatta questa manifestazione di interesse, in modo che entro l'anno riusciremo a impostare un po' questa soluzione. È stato fatto, ha redatto un masterplan di tutti gli impianti sportivi, quindi noi abbiamo l'opportunità di intervenire in base ai bandi che usciranno, PNRR, Interreg, qualsiasi bandi regionali o nazionali, già con dei lotti definiti. Quindi di conseguenza sappiamo quello che dobbiamo fare e quando con determinati livelli di priorità, concordati con le società e anche con la popolazione. Quindi sicuramente cominceremo con la tenso struttura per poi andare avanti anche nel PNRR con varie domande sugli impianti sportivi. Questo anche per cercare di far fronte insomma alle esigenze del mondo delle associazioni che sappiamo essere colpite insomma nelle tante attività che sono venute a mancare ovviamente in questi due anni della pandemia. È uno degli argomenti più spinosi, se ne parla poco perché non è facile ammettere che le associazioni sono rimaste ferme non per volontà loro ma perché la difficoltà normativa ma anche la pericolosità della pandemia le ha costrette a questo fermo. Quello che ci spaventa più sia come comunità che come amministrazione è quello che poi queste associazioni facciano fatica a ripartire. Abbiamo sempre tenuto alto l'attenzione per quanto riguarda i contributi che possono essere dati alle associazioni per le attività fatte nel 2021 non è stato facile farle ma chi le ha fatte va premiato quindi abbiamo messo a bilancio 20.000 euro che verranno distribuiti alle associazioni che hanno fatto domanda a rendiconto sul 2021 sono state tante abbiamo 53 associazioni, sono tante abbiamo anche una proloco dall'anno scorso che ha organizzato i mercatini di Natale quindi cominciamo appunto anche a vedere la nostra proloco attiva e anche propositiva hanno tante attività in mente per il 2022 sperando che ci siano meno problematiche di organizzazione e possano farlo più serenamente. E questo può essere comunque un modo anche per coinvolgere sempre più i giovani del territorio perché siano proprio protagonisti vero? Del loro ambiente. Questo è l'obiettivo il risultato non è scontato ci proviamo non è facile coinvolgere i giovani perché devi entrare in meccanismi che cambiano e forse sono cambiati anche con il Covid perché adesso bisogna andare a prenderli a casa sarà una delle grandi sfide dei prossimi anni. L'ambito della cultura in particolare abbiamo parlato dello sport adesso per quanto attiene alla cultura, Sindaco? Sulla cultura abbiamo per quanto si poteva continuato a investire sulla biblioteca che ha arrogato tantissimi prestiti le persone di Santa Giustina sono voraci, lettrici di conseguenza abbiamo altissimi numeri di prestiti e di contatti con la biblioteca abbiamo anche organizzato delle serate di lettura per esempio sulle giornate della memoria abbiamo fatto delle proiezioni di video sui viaggi cercando di mettere un po' una toppa a quello che purtroppo tutti noi abbiamo dovuto rimanere attorno ai nostri luoghi non potendo viaggiare per il mondo abbiamo cercato di far vedere anche un po' tramite la rassegna emozioni e suggestioni un po' il mondo anche ai nostri cittadini è andata molto bene utilizzando la palestra comunale che è adibita adesso anche a pubblico spettacolo e abbiamo fatto dei concerti sempre in palestra con la Ficeorchestra Rossini che sicuramente è di altissima qualità certo quindi una serie di proposte variegate proprio per cercare di dare un'offerta e tenere sempre vita alta insomma la vitalità appunto del territorio ovviamente nel rispetto di quello che si può fare in questo momento perché senta Sindaco un ultimo tema che vorrei affrontare con lei è la questione del turismo adesso appunto stagione invernale ma insomma anche guardando un po' i prossimi mesi avete qualche proposta innovativa? allora il turismo degli ultimi mesi non è andato proprio benissimo ovviamente essendo che comunque gli impianti cistici anche della zona andavano a essere riempiti anche da parecchi turisti esteri la cosa ovviamente ha limitato anche l'apporto turistico nel nostro comune noi stiamo investendo parecchio in quello che è la sentieristica in quello che è la mappatura della parte turistica dei nostri sentieri quindi andremo in quest'anno a realizzare la finire l'ultimo pezzo della via dell'acqua quindi un pezzo che parte dalla piazza maggiore sale fino a Casabellata di conseguenza andremo a completare un anello molto apprezzato sia dei residenti per le passeggiate ma anche per i turisti che possono partire dal centro andare fino su a Campelle e anche in Valscura per quanto riguarda invece il turismo è l'anno della ciclabile quindi verrà inaugurata quest'anno le ultime lavorazioni sono state fatte mancano gli asfalti e alcune sistemazioni legate alla cartellonistica e alle protezioni stradali che verranno fatte col bel tempo quindi anche qui siamo addirittura d'arrivo però il cicloturismo insomma sta prendendo sempre più piede ecco molto sul territorio bene sindaco allora con quest'ultima suggestione quest'ultimo auspicio di riuscire presto insomma a tornare a godere ulteriormente dei nostri meravigliosi territori noi ci salutiamo io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato le auguro buon lavoro grazie a voi a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti